L'osteopatia fa parte delle pratiche della medicina integrata. L'Organizzazione Mondiale della Sanità la inserisce tra le medicine tradizionali e complementari. La sua pratica consiste nella manipolazione di schiena, collo, testa. Il suo approccio è olistico, basato sull'idea dell'interconnessione delle parti del corpo, mente, spirito e corpo, che possiede propri meccanismi di autoregolazione e autoguarigione. L'osteopatia nasce nel 1828 con la fondazione della Scuola di Osteopatia, ad opera del medico Taylor Steele, che conia il termine durante la guerra civile americana. Steele proponeva uno stile di vita e un'alimentazione salutare, unendo tecniche manipolative che potevano migliorare le funzioni fisiologiche. Si contrapponeva quindi alle pratiche mediche del suo tempo, usando un approccio filosofico alternativo che riteneva il corpo in grado di curarsi autonomamente, rimuovendo solo ogni impedimento allo scopo, migliorando le funzioni fisiologiche. I principi fondamentali su cui si fonda l'osteopatia sono Il corpo è un'unità. La persona è un'unità di corpo, mente e spirito. Il corpo ha la capacità di autoregolarsi, di autoguarire e di mantenere lo stato di salute. Struttura e funzione sono reciprocamente correlate. La logica del trattamento manipolativo osteopatico è basata sulla comprensione dei principi fondamentali di Unità del corpo, autoregolazione e interrelazione tra struttura e funzione In Italia, per formarsi in osteopatia, ci sono istituti scolastici accreditati dal registro degli osteopati d'Italia e che rispettano gli standard europei. La formazione in Italia è regolamentata da associazioni. Può essere utile rivolgersi ad un osteopata, anche su consulto del proprio medico di medicina generale in caso di disfunzioni muscoloscheletriche. In particolare, la pratica di un osteopata è indicata per I sintomi che possono indurre a rivolgersi all'osteopata sono Stai cercando l'osteopata specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it Oppure su www.socialdoctor.it Oppure su www.studiopronto24.it Questa è un'idea di Uma Innovation Se questo video lo hai trovato interessante, presto faremo altri video Iscriviti a questo canale e condividi Questa è un'idea di Uma Innovation Iscriviti a questo canale Iscriviti a questo canale